È stato bello finché è durato. Ultimo vertice Nato martedì a Bruxelles per John Kerry, segretario americano alla difesa. Con l'avvento dell'amministrazione Trump, la forza dei legami transatlantici potrebbe cambiare. E per Stoltenberg è necessario rafforzare la cooperazione tra Europa e Nato. Al centro della riunione c'è stata l'importanza del legame transatlantico, il legame tra l'Europa e il Nord America. E un modo per rafforzare il legame tra il Nord America e l'Europa è rafforzare la cooperazione tra la Nato e l'Unione Europea. Una maggiore partecipazione europea nell'alleanza è necessaria vista la minaccia appaventata da Donald Trump di ridurre il contributo americano per difendere l'Europa. Ma secondo questo esperto la posizione del neopresidente non sarebbe insolita. Gli Stati Uniti forniscono quasi il 73% del bilancio della Nato, quasi quattro volte di più per soldato della media europea. Ciò non è sostenibile ed è una tradizione nella politica estera degli Stati Uniti chiedere da Washington che l'Europa si prenda cura del suo giardino. È indifferente che alla Casa Bianca ci sia un democratico, un repubblicano. Questa tendenza comunque rimane. Un pacchetto di 40 misure in 7 aree di collaborazione tra UE e Nato è stato varato al termine della riunione.